ciao a tutti bentornati e bentornate sul canale in questo video vedremo come mettere in modalità dfu il nostro iphone servirà una combinazione di tasti che varia da modello a modello i più recenti non utilizzano più il tasto home quindi sarà molto più semplice mettere in dfu il nostro iphone la modalità dfu serve principalmente per aggiornare il nostro dispositivo tramite vari software come itunes ed altri quindi basterà mettere in modalità dfu o di recupero il nostro iphone e poi procedere con gli aggiornamenti e i vari ripristini per i modelli più vecchi che ancora dispongono del tasto home come ad esempio l'iphone 6 e alcuni altri modelli allora la procedura sarà diversa dovremo prendere in considerazione di premere il tasto home insieme alle combinazioni di tasti volume su e volume giù e laterale quando richiesto in alcuni modelli per prima cosa dobbiamo collegare il nostro dispositivo al pc o al mac poi teniamo premuto il tasto laterale del volume su subito il tasto del volume giù e poi il tasto di accensione dopo qualche secondo iphone si accenderà e si metterà in modalità dfu tutto questo mentre iphone è collegato ad itunes attenzione però che a volte può succedere che itunes non riesca a fare più uscire iphone dalla modalità dfu e siamo costretti a ripristinare il telefono questa è una cosa che capita molto spesso quindi vediamo il secondo metodo possiamo scaricare il programmare iboot di tenorshare che oltre a sistemare più di 150 errori del sistema operativo us e ipad os su iphone e ipad aiuta anche a mettere in modalità di recupero il nostro iphone o a effettuare downgrade di firmware tuttavia abbiamo un secondo metodo che è molto più semplice perché basterà collegare il nostro dispositivo al computer o al mac e aprire il programma rei boot di tenorshare rei boot metterà in modalità dfu il nostro iphone con un semplice click quindi apriamo il programma clicchiamo sull'opzione entra in modalità di recupero attendiamo che iphone entri in modalità di recupero quindi se vogliamo poi uscire dalla modalità di recupero sarà sufficiente cliccare sul pulsante di rei boot esci da modalità di recupero e potremmo utilizzarlo normalmente e potremmo utilizzarlo